Sono short sul petrolio della prima operazione di trading per il mese di dicembre, l'ultimo di questo 2023. Io sono sempre Damiano Zito, pre-section trader indipendente, membro e collaboratore di Airforex e in questa rubrica, professione trader, ogni giovedì andiamo a vedere l'avanzamento del mio diario di trading che è il diario di trading della mia attività post-studio nel percorso di accademia che ho intrapreso in Airforex. Sono davanti quindi alla piattaforma MetaTrader collegata a questo conto di trading che ho aperto come fase esperienziale per l'accademia e come possiamo vedere ho in atto quest'unica posizione sul petrolio che è uno short che adesso andiamo a vedere su ProRealTime si è attivato, era un sell stop che ho inserito nella giornata appunto di venerdì scorso ed è stato colpito, diciamo, l'ordine è entrato il primo dicembre alle 18.17. Ho un sell stop, quindi una posizione dove chiaramente anche per questioni di lottaggio su MetaTrader sono con un micro lotto e sto rischiando il 65 euro, lo 0,65% di questo conto di trading più o meno. Quindi ho già inserito l'operazione sul diario e adesso l'andiamo ad analizzare su ProRealTime. Allora, quindi ho aperto la piattaforma, vediamo, anzi magari metto, ok, probabilmente si vede anche meglio lo schermo in questo modo quindi andiamo a vedere appunto il petrolio, petrolio eccolo qui, che appunto ho in questo momento short sul mio conto. Allora, questo è il giornaliero, quindi il giornaliero che possiamo vedere ha creato nella giornata del 30 novembre questa candela che è stato, diciamo, il mio setup, il mio trigger che mi ha appunto fatto pensare ad un ingresso short avevo un piano long short la scorsa settimana e preferivo vedere proprio sopra, una volta rotti i 78 diciamo preferivo vedere forza sopra i 78 per poter acquistare anche perché sembrava il mercato che dopo questa outside bar che si era creata a metà novembre e quindi l'ha tenuta con una inside la settimana successiva, sembrava che il mercato potesse tenere i 74 dollari e quindi ripartire al rialzo. Quindi in quel momento, anche se avevo un piano appunto long short stavo appunto cercando di capire se il mercato aveva forza rialzista e non c'è stata. Che cosa è successo? Il mio livello di, diciamo, di guardia, di interesse era proprio l'area 78 l'area proprio di, diciamo, di massimo di questa candela poi tra l'altro del 22 novembre è il livello che per quanto, diciamo, mi aspettavo doveva essere mantenuto ed evitare, diciamo, delle false rotture. Nella giornata di giovedì che cosa fa il prezzo? Il prezzo effettivamente fa sostanzialmente il contrario di quello che mi aspettavo cioè non c'è quella forza che mi aspettavo di vedere appunto per una continuazione long e fa una falsa rottura. Falsa rottura che si concretizza poi con questa chiusura daily questa candela in realtà è una combo è una FTV che è una, diciamo, è una strategia di Arduino Schenato la trovate qui su Sierra Forex per chi non la conosce ma è una candela che contiene dal punto di vista operativo diverse informazioni per quanto mi riguarda. Prima fra tutto il fatto che c'è stata la rottura al rialzo del livello 78 e conseguente, come dire, ribasso del prezzo era un livello che appunto nel breve andava monitorato quindi il 78 in questo caso era il livello chiave e quindi diciamo la candela poi chiude con una volatilità che se andiamo a vedere, a misurare, è maggiore allora in questo caso è 452 qui abbiamo 235 qui abbiamo 232 qui abbiamo 213 che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la volatilità di questo di questa candela è maggiore quindi che cosa fa? Fa falsa rottura, aumenta la volatilità al ribasso è anche un mio setup operativo quindi ho deciso di fare un ingresso quindi questa candela è, oltre ad essere una FTV una candela per quanto mi riguarda di falsa rottura ed è anche un doppio massimo lower close che per chi non lo conosce è un ulteriore trigger dell'approccio IR Forex è una candela che in questo caso che cosa fa? è un outside della candela precedente cioè ha un massimo questo punto e questo punto che è un minimo che va praticamente a coprire la candela precedente in questo caso la candela del 29 è una chiusura più bassa quindi questa chiusura è più bassa del minimo della candela precedente quindi è un outside bar fondamentalmente che ha queste caratteristiche massimi e minimi devono inglobare la candela precedente il minimo deve essere la chiusura deve essere minore del minimo precedente della candela precedente quindi diciamo queste sono le caratteristiche del doppio massimo lower close quindi candela FTV falsa rottura doppio massimo lower close ho deciso di inserire un self stop qui proprio a livello tondo 75 e allora dove meglio come mi sono posizionato per quanto riguarda lo stop io ho messo uno stop a 82 10 se guardiamo la volatilità di questa candela è già importante chiedeva poi chiaramente la settimana la chiusa con effettivamente se andiamo a vedere il settimanale è un settimanale praticamente pin bar anche se ancora inside di questa candela però è andato appunto a falsare i massimi precedenti per me è una pin bar tradabile e quindi insomma è più che altro confermativo essendo un mercato comunque volatile quello del petrolio ho preferito comunque non mettermi sopra gli 80 80 dollari al barile ma mi sono lasciato spazio quindi lo vediamo qui sul settimanale ho preferito lasciarmi un po' di spazio sopra gli 82 10 centesimi sopra 82 poco cambia comunque se lo andiamo a vedere siamo fondamentalmente al 150% cioè presa la volatilità di questa di questa barra trigger di questo setup prendo il 50% di volo e posiziono lo stop poco sopra in questo caso 82 10 questo che vuol dire? vuol dire che insomma mi sono lasciato lo spazio per una ulteriore falsa rottura che al momento comunque non c'è stata sinceramente poi il prezzo al momento siamo al venerdì è andato giù lunedì ieri è comunque stato debole siamo su su questi minimi quindi il prezzo adesso potrebbe congestionare o rimbalzare non mi piacerebbe rivedere effettivamente dopo già questo allungo un'ulteriore falsa rottura quindi probabilmente andrò a gestirmi la posizione dove esse il prezzo tornare violentamente al rialzo però questo lo andrò lo andrò a gestire man mano che insomma il prezzo il prezzo evolve quindi diciamo questo è il motivo per cui lo stop sta a 82.10 sta qui perché ho preso la volatilità che era già ampia di questa candela ho preso il 50% ci ho messo 10 centesimi in questo caso sopra ok quindi candela che ha poi delle estensioni interessanti io ho posizionato un target in macchina al momento 67.80 se non sbaglio si 67.80 è quest'area qui diciamo il T5 della candela che corrisponde con questi minimi ora li vediamo anche sul settimanale ci sono due aree che possono essere importanti una e lo sono una è l'area di minimo di ieri che è ciò che ha testato già ieri anche se ancora non è arrivato proprio più in basso ho iniziato un po' a sentire sicuramente questa questa zona che è stata riacquistata a metà novembre e chiaramente poi anche questa zona di mezzo con il livello tondo che è di 70 dollari se andiamo sul settimanale vediamo come questa la zona dei 70 è sostanzialmente la zona delle chiusure dove il prezzo quando era rimasto laterale aveva fatto aveva fatto base quindi tutta questa zona qui ok però secondo me vista vista l'impostazione del petrolio ci sta a mettersi con un target un po' più in basso quindi puoi chiaramente gestire la posizione non per forza dovrò arrivare a 67-80 ma ci sta a mettere il target così in basso perché il petrolio se scende in questo caso va effettivamente potrebbe andare proprio a prendere le zone precedenti c'è tutta quest'area c'è anche i 65 che sono dei livelli che comunque il mercato ha già ha già cotato ha già apprezzato e quindi nessuno gli vieta di poterlo fare quindi sono short qui abbiamo un mercato che dopo questo rialzo è venuto praticamente giù in questo modo qui sembrava appunto come stavamo dicendo prima che il mercato potesse tenere al momento sta mostrando ancora debolezza quindi sembra effettivamente ci possa essere come dire continuazione al ribasso se vediamo quindi diciamo che quindi il trend in questo momento è strutturato al ribasso se vediamo poi ecco la figura più nel lungo periodo vediamo come effettivamente però qui siamo veramente nel nel lungo qui abbiamo un super come dire un gambone short che è stato questo poi il prezzo qui ha fatto base e quindi questo potrebbe essere solo un ritracciamento di questo grande ribasso che abbiamo visto sostanzialmente per tutto il il 2022 il 2023 è stato fondamentalmente fino a luglio un anno laterale si è risvegliato verso appunto l'ultimo quasi l'ultimo trimestre cioè o meglio nella fase del nella fase estiva e adesso nell'ultimo trimestre quindi da settembre dopo aver fatto questi massimi sta venendo giù quindi ecco questo potrebbe essere dopo aver fatto appunto questo doppio massimo tecnico quindi in questa fase molto short potrebbe essere anche come dire una nuova continuazione a ribasso però questa è veramente una figura di lungo periodo che per quanto riguarda il mio trade è anche troppo possiamo vedere però nel breve quello che mi interessava vedere è come diciamo qual è appunto l'eventuale quali sono le estensioni interessanti di questo swing sul settimanale questo ok l'indecision vediamo come effettivamente abbia un 423 sessanta che è un t7 questo è un t7 nel gergo yearforex questo è un t6 questo è il 261 8 e il t5 effettivamente diciamo anche qui comunque ha una ulteriore un'interiore confluenza e chiaramente qui abbiamo il t6 e la zona appunto dei minimi di cui parlavo prima che devono essere rotti per poi poter vedere un ulteriore allungo eccoci qua quindi diciamo sono sono le due zone che andrò ad attenzionare quindi al momento comunque sono sono in posizione ho fatto questo primo ingresso sto rischiando lo 0,65% la mia idea è che questo qui possa essere un un trade dove posso incrementare perché ci sarebbe lo spazio potrebbe ci potrebbe essere la possibilità anche sul daily questa questa posizione a meno che lui non crollo comunque non mi torni con violenza al rialzo a quel punto chiuderei prima però diciamo l'idea l'idea è poter incrementare ora siamo ancora inizio di settimana mentre sto registrando è martedì il prezzo può fare veramente tante cose questo non possiamo chiaramente saperlo e diciamo che fatto questo movimento io mi posso anche come dire attendere un un ritracciamento cioè tenere il il trade quindi sopportare tra virgolette il il ritracciamento proprio per perché diciamo è contemplato nella mia operazione il fatto che lui possa tornare a break even o anche meno ma che lo faccia con tranquillità perché a quel punto potrebbe essere potrebbe verificarsi diciamo un'ulteriore occasione di vendita e a quel punto potrei potrei vendere magari abbassare lo stop e vendere magari più o meno con un prezzo di carico più o meno vicino a quello di ingresso se dovesse andare giù quindi potrebbe anche verificarsi che cosa che lui riesca come dire avendo debolezza potrebbe rompere direttamente quest'area qui quindi questa zona di minimi a quel punto una volta rotti potrei valutare un ingresso una dinamica 6 ore sotto i 72 in zona 72 valutare quindi dopo la rottura di questa zona quindi un incremento abbassando lo stop quindi gestendo il rischio aumentando quindi la mia esposizione per poi portarmi in area in area target è chiaro che queste chiusure la zona 70 è una zona che potrebbe invece respingere quindi anche effettivamente guardando un po' ecco una volta una volta effettuata la rottura bisogna bisogna che io faccia attenzione a che cosa come avviene questa questa dinamica perché una cosa che potrebbe avvenire che lui rompa questi come dire questi questi minimi poi arriva sui 70 e a quel punto mi rimangia anche questa questa candela oppure dovesse andare giù poi magari mi fa una cosa del genere tenuta poi ancora rialzo ancora ribasso per esempio allora a quel punto si può si può vendere valuterò chiaramente e quindi andrà andare andare al target diciamo questa questa l'idea quindi un trade short che ha appunto questo 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 target 6680 con la possibilità di incrementare non vedo al momento altre cose altre cose da fare il trade non ha al momento lo stop non ho spostato lo stop lo gestirò man mano che si muove si muove il mercato quindi questa è sostanzialmente la prima operazione che ho fatto questo mese e vediamo appunto se cederà i suoi frutti non ho al momento nuove idee di trading avevo la scorsa settimana l'idea di fare il long su oro però dopo aver registrato poco dopo in realtà diciamo ho abbandonato i grafici e quando sono ritornato il prezzo era già esploso poi insomma il movimento il momento c'è già c'è già stato diamo giusto un occhio all'euro dollaro il mercato che con con il dollaro americano questa settimana tengo in osservazione sia long che short dal punto di vista di breve vediamo come si sta comportando la dinamica che abbiamo studiato nelle scorse puntate cioè abbiamo visto appunto come questa costruzione di minimi portava proprio in zona 1.095 poi il prezzo effettivamente è andato un po' più in alto e qui c'è stata era il sì il 28 il 28 novembre c'è stata diciamo l'ultima l'ultima fiammata verso l'alto recuperata e poi il prezzo è venuto giù quindi adesso sta proprio a 1.0839 zona dove io avevo chiuso il mio primo no non era il primo era comunque il long che avevo fatto proprio su sull'euro quindi siamo siamo ancora in quelle zone però effettivamente il prezzo al momento il cambio è sicuramente nel breve è debole abbiamo un dollaro americano che ha perso un po' di terreno e lo sta recuperando in questo momento vedo anche l'astraliano molto debole l'idea comunque che su questo su questo mercato appunto io questa settimana possa andare sia long che short se vediamo il settimanale effettivamente l'idea è che dopo dopo aver fatto questo lui adesso ha swingato sul settimanale ha creato questo questo è uno swing high cioè il prezzo ha rotto il minimo di questa di questa candela questa che è la diciamo la chiusura settimanale scorsa che è una outside della precedente andando su l'1.10 adesso il prezzo si trova sotto 1.09 e rompe questo minimo quindi questo diventa uno swing high uno swing high che effettivamente può potrebbe portare come dire come sua estensione naturale vediamo un po' avrebbe diciamo un T2 su zona 1.07 ma proprio 1.07 e 10 circa sarebbe il T3 l'estensione naturale di di questo di questo swing che tra l'altro corrisponde proprio con quel livello che ho segnato al momento sul appunto sul sul grafico sul settimanale questa questa zona sicuramente interessante abbiamo visto comunque già come l'1.07 è sicuramente un livello parte un livello tondo con quel livello che nel nelle ultime settimane è stato chiave per per l'euro dollaro quindi diciamo un mercato che appunto sto guardando in ottica sia short che long e che potrei shortare se adesso lui lui è venuto giù se diciamo dovesse mantenersi debole per esempio oggi comunque chiude debole domani chiude debole poi lui mi torna su e viene giù sinceramente potrei anche ho fatto veramente un disegno bruttino comunque diciamo l'idea è che potrei anche sceltare una cosa del genere e potrebbe anche adesso andare su direttamente ok dovesse fare qui ecco per esempio anche l'1.09 per quanto mi riguarda è contemplato come livello dove poter vendere nel mio piano questo perché questo perché diciamo che allora lui il prezzo chiaramente si sta comportando in questo modo adesso sta venendo giù cosa può fare è chiaro che lui può diciamo può sicuramente continuare al rialzo e quindi diciamo qui possiamo avere continuazione rialzista e quindi seguiamo vado a seguire questo questa questa forza long però se qui dovesse creare un come dire un forte rialzo e poi un recupero che avviene in vola in volatilità quindi crea di nuovo un come dire un fake quindi una falsa rottura di 1.09 1.09 in questo caso allora a quel punto potrei potrei anche vendere magari con una conferma questo perché lui adesso qui cosa sta facendo sta facendo potrebbe fare una situazione in cui effettivamente questa diventa una base lui torna su viene giù allora a quel punto si potrebbe pensare con un minimo di accuratezza nella scelta della dinamica dopo un daily quindi sul 6 ore di vendere dovesse invece tornare veramente forza sull'euro che però in questo momento tra i cambi volutari o meglio nelle ultime giornate è stato veramente quello più più debole allora a quel punto tornerei long però a quel punto probabilmente avremo anche la sterlina che avrà fatto probabilmente una buona base qui o una falsa rottura di questo livello 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 allora a quel punto avremo probabilmente un'informazione anche correlativa interessante quindi diciamo per tornare potremmo tornare a vendere dollari americani ok quindi anche per oggi è tutto quindi in questo video ho fatto vedere quella che è la mia nuova operazione che è uno short sul petrolio la mia idea sull'euro quindi il mio posizionamento in termini operativi è long short in un momento non sto facendo niente sto solo guardando ti ringrazio come sempre per aver visto il video ti ricordo di lasciare un commento al video per farci sapere se questo tipo di contenuto ti sta piacendo come possiamo migliorarlo e lasciare un mi piace al video per supportare il canale iscriverti se non lo hai fatto e attivare la campanella per ricevere le prossime notifiche io ti ringrazio ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading alla prossima ciao